Per far fronte al numero dei contagi sempre più alto, se pensiamo alle province di Firenze e Prato a Pistoia, con circa 21.000 casi, una nuova ordinanza stabilisce nuove regole per la raccolta dei rifiuti in soggetti positivi al Covid e in quarantena domicilare attraverso un sistema chiamato SISPC. Un sistema dove le ASLE inseriscono i dati dei certificati che la persona è positiva o meno. Un sistema degli enti pubblici e il Comune ce lo trasferisce direttamente a noi. Ma come cambierà la raccolta per l'utente finale? Verrà fatta non più con il bidoncino ma tramite la nostra fornitura di sacchi rossi che verranno utilizzati, come prevede l'Istituto Superiore della Sanità, utilizzando il doppio sacco. Quindi permetteranno alla famiglia che è in quarantena di poter gestire i propri rifiuti per 21 giorni, senza nessun tipo di differenziazione. Questo rifiuto a questo punto verrà esposto secondo un calendario, quindi in questo modo noi riusciamo a garantire il ritiro con due volte alla settimana come frequenza. preferibilmente nel periodo lotturno. Un servizio quasi personalizzato che voi fate, diciamo, a capillare ad ogni paziente. Esatto. Si va su un numero cifero, numero cifero, su persona a persona. Le persone che poi appunto hanno difficoltà a poter espurre il rifiuto, potranno contattarci allora a questo punto loro direttamente, evidenziando le difficoltà che hanno. E noi a questo punto gli facciamo anche un servizio dedicato e troveremo le modalità con cui allontanargli i rifiuti. Rifiuti che seguiranno una filiera completamente separata e per la quale sono state assunte nuove figure di riferimento per una risposta più pronta alle esigenze dei cittadini. Ad oggi la dotazione è fatta da 80 persone, che io devo dire sono persone straordinarie perché non si sono mai fermate in questo momento, sono andate veramente avanti senza sosta, che sono gli addetti che vengono casa per casa a fare la raccolta, in modo da spiegare le modalità del ritiro e prenotare il primo ritiro. Lo smaltimento finale rimane in prima istanza alla termodistruzione, tuttavia l'ordinanza regionale prevede anche lo smaltimento in discarica senza nessun tipo di pretrattamento.